Domenica di riposo per la San Cataldese nel campionato di Serie D, il cui inizio è previsto per il 18 settembre, data decisa soltanto per il Girone I, in attesa di una decisione definitiva sull'ammissione del Giarre. Archiviate le due gare di Coppa Italia contro Catani e Paternò, esaltante la prima, da dimenticare la seconda, la squadra verde-amaranto ha tutto il tempo di preparare al meglio l'esordio stagionale, quando conteranno i tre punti. La San Cataldese dovrà vedersela con Acireale, Canicattì, Castrovillari, Catania, Cittanova, Lamezia Terme, Licata, Locri, Mariglianese, Paternò, Raguse, Real Adersa, San Luca, Sant'Agata, Santa Maria Cilento, Trapani, Vibonese e se ammesso definitivamente Giarre. Nel campionato di eccellenza Girone A, esordio stagionale per la Nissa allenata da Alessandro Settineri, i biancoscudati saranno impegnati a Casteldaccia, l'obiettivo è quello di tornare a casa con una vittoria. Il Gela ospiterà lo Sciacca in una partita che si preannuncia dai contenuti tecnici interessanti. Completano il quadro della prima giornata Acragas Leonfortese, Castellammare Cus Palermo, Oratorio San Ciro e Giorgio Mazzara, Parmonval Resuttana San Lorenzo, Profavara Don Carlo Misilmeri e Mazzarese Enna. Nel campionato di promozione Girone B, debutto in trasferta per la Gorgonia Delia, sul campo dell'Aspra, le altre partite Geraci Mistretta, Lascari Gioiosa, Profalcone Casteldaccia, San Fratello Castelbuono e Villarosa Sant'Angiolese, riposa la Castelluccese. Nel girone di la prima giornata vedrà la società calcistica Gela sul terreno della Pro Ragusa, le altre gare Atletico Santa Lucia, Canicattini Scordia, Priolo Gargallo Megara, Frigintini FCM 2011, Mister Bianco Vittoria e Vizzini Avola.